Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno! Oggi è il 20 mi sembra, giusto? Vabbè, è di ottobre del 2023, sì è il 20 oggi, giusto? Siamo a Varignana, perché qualcuno voglio andare alla vigna, voglio andare alla vigna, voglio andare alla vigna! E allora niente, siamo tornati a Varignana! Ed eccola qua la vigna! Grazie! Oggi non hai lo zainetto rosso! No! Oggi non hai lo zainetto rosso! Contento di essere alla vigna? Sì, è bello! È vietato sparare lì, eh? Anche picconare! Anche nuotare e anche darsi i pugni! Oggi non hai lo zainetto rosso! Oggi non hai lo zainetto rosso! Oggi non hai lo zainetto rosso! Io e allora sono ormai... Ha 되게 piov slipping appena viaggio! Perchè a piovoto! Ed è piogliata? No ne prego? Mi piace! Ma era una piovotica di L'amfiteatro a Vigna... Tappi per me sulla oh, le meteo è un po' ponieważ! insomma non sono proprio vabbè in teoria doveva venire a piovere stasera dopo le cinque noi intanto mangiamo qui claudio c'ha il farro abbiamo il succo da bere io ho i panini adesso biscottini abbiamo i biscottini dell'ikea sia quelli con la marmellata cosa di lamponi e cioccolato che peraltro cioè quando li abbiamo comprati l'altro giorno c'è la cassa automatica adesso no e tu li passi tranquillo poi dopo pg fine non mi ricordo per pagare e ti chiede sei sicuro di aver passato tutti gli articoli perché presumere che devo rubare un po' di paese Grazie a tutti. Bimbo gnocco con alle spalle un olivo con le olive attaccate tra l'altro ci stavamo chiedendo quando si raccolgono le olive dovremmo mandare un messaggio a qualcuno per chiederlo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.